Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova sessione di classifica come promesso, purtroppo non sono riuscito a farvi vedere l'entrata al terzo ma eccoci qua, con il sempre amato super recluta e ora vediamo un po' come procediamo e quindi via allora vediamo un po' come va ultimamente sto incontrando parecchi, molti paladini incontro ora un bel ladro oil allora teniamo il gufo per cosa? per silenziare l'eventuale violacea teniamo lui, teniamo lui, teniamo lui sperando che ci entri presso Harrison Jones altrimenti diventa un po' un problema ah bene bene, lui è ottimo ragazzi lui per fermare il ladro oil ci sta sempre molto bene sperando di riuscirlo a giocare al momento giusto allora due danni no, non ce l'ho no, non ce l'ho allora una lunata ragazzi no no diciamo così non voglio spercare Aldor tanto adesso sicuramente la parola di violacea di insegnante violacea allora o lo abbattiamo e rimandiamo con un'arma oppure lo silenziamo oppure lo portiamo a uno vabbè ragazzi siamo gesti qua su quello in faccia ok vediamo un po' che posso fare invece vediamo Grazie. E allora, ragazzi, questa va tolta l'arma, per forza. Va tolta per forza. E allora, tre danni in più e ci riprendiamo. Ora è obbligatorio anche la cura. Vediamo un po' che risponde. Vediamo un po' che risponde. Vediamo un po' che risponde. Sarebbe un problema se gli entrasse adesso lo scatto. Se gli entrasse lo scatto potrebbe essere un problema. Vediamo un po' che risponde. Vediamo un po' che risponde. Allora Mi vero postretto a curarmi Siamo un po' illati ragazzi con le carte perché non ci sono entrate le carte che vanno meglio in sinergia Allora La silenziamo Siamo pure Allora Brutta carta Speriamo 100 ineguaglianza Allora ci farebbe comodo Ho anche una mano di mestione Allora 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 Per forza così ragazzi Perché Se non rischiamo troppo Siamo troppo sotto Questa è brutta ragazzi Questo lo scatto ora non ci voleva Lo scatto ora non ci voleva ragazzi Quattro cinque Allora 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 Grazie a tutti. Speriamo la tua chiusura. Beleno. Affanculo. E vabbè. E quello scatto è stato fatto alle carezze. Quello scatto gli ha dato le carte che inserivano. E io ho avuto un po' di ghialla che non mi è entrata a mano celestia. E vabbè. Troviamone un'altra. A volte va bene, a volte va male. Oh, solo contro leggenda lì mi fa combattere. E io ho avuto un po' di ghialla. Mamma mia, è proprio brutto però il dorato del guerriero. Tutte fiamme attorno. Non piace per me. Vabbè, a volte ci si dà. Non è solo un'altra. Moneta, vabbè. Ok. Che per pescare una carta basta mi scoccio ragazzi. per pescare su una carta mi scorcio la carta sa prima di niente la carta sa prima di niente la carta è andata bene non sia riuscito a far tre pescate ho pescato come un dannato e ora ci sarebbe bene giocare all'asciutto così potrebbe essere pericoloso perché potete andare a fare un po' di più che è un bimbiere. la speranza non abbia l'ex ora facciamo siamo attenti adesso che potrebbe anche avere il tecno controllore quindi evitiamo di mettere il quarto in campo e non ha neanche il corpo in scuro perché se non avrei bussato su Silvana penso io non riesco a capire che cavolo di carte c'è non lo mettiamo in conto allora pescate l'ex devo scegliere faccio così ragazzi perché ho paura l'eventuale tecnocontrollore poi vediamo un po' che gioco mamma mia c'è ormai finita carte pesca tutto pesca 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 Ah, è entrato, vedi? Qui è entrato. Allora, io direi di fare, cioè, sarebbe meglio farlo diversamente, ma... Facciamolo così, mamma mia, mi ha pescato un sacco di carta, stiamo proprio sul filo del razzolino, stiamo proprio sul filo del razzolino. Parissima. Ah, che caso, che caso. Non, non ci sono, non ci sono. Un Wahll, un Ciglio, quasi. Grazie. 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 Che posto. No. Oh, scusate. Annaggia. L. Il problema è che se non mi entra l'uguaglianza, ragazzi, andiamo molto a soffrire contro quella di una maledettissima canta. E' gi balloons... Grazie. 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 Managgia, entraste a me la rison per togliere sto maledetto morso della morte del cavolo. Eh, ora non mi apprende l'aria. Però si è carica l'altro. L'altro corpo di scuso. Però. Allora, distruggere lui andiamo a sette. Troppo bassi. Cavolo, però è l'ultima. Sicuramente ci avrà anche all'estrada, quindi dopo la porta giù all'estrada. Quattro. Annaggia. Vabbè ragazzi. Faccio la visita. Toccava far diversamente. E va bene, e va bene. Va bene ragazzi. Oggi abbiamo preso solo mazzate. È giusto così. Ok, allora ragazzi. Grazie per avermi visto. Spero che il video vi piaccia. Se vi piace mettete un bel mi piace. Come al solito condividetelo così mi aiutate a crescere come canale. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi. Ciao.